L'ascoli retrocede in C-scene di guerriglia urbana nel dopo partita, feriti atti vandalici e scontri violenti tra ultra e polizia. Danni al monumento del passetto, sfregiato dalle bombolette spray, usato un solvente sbagliato da un cineoperatore. Educazione finanziaria e performance economiche a Dubbino, conferenza per la competitività di imprese e resilienza dei cittadini. Consegnate stamattina la Croce Rossa di Marotta a benemerenze a dipendenti e volontari per impegno e dedizione verso l'altro. Buongiorno, ben trovati per questa prima edizione di All News, il Tg delle Marche di TVRs. Siamo in diretta dalla sede di Fano. Iniziamo con le scene da guerriglia urbana che ci sono state ieri ad Ascoli per quanto riguarda la retrocessione in C della squadra. Allora, abbiamo in collegamento da Ascoli Mario Larocca che ha seguito proprio in prima persona l'evoluzione degli accadimenti ed è anche in compagnia di un ospite, una vecchia gloria della serie A dell'Ascoli, Domenico Agostini. A te la linea Mario. Sì, ciao Lino, buongiorno, benvenuti da Ascoli. Beh, oggi il risveglio ad Ascoli è tutt'altro che allegro. Nonostante ci sia un bel sole, l'Ascoli è retrocesso in Lega Pro al termine dell'ultima giornata di campionato che ha visto comunque Bianconeri battere il Pisa per 2-1, ma le concomitanti vittorie di Ternana e Bari hanno fatto retrocedere dopo nuovi campionati di B la squadra bianconera. Fine partita burrascoso, tanti interventi delle forze dell'ordine, lancio di oggetti. Questa mattina l'impianto sportivo era pieno di detriti, di sassi, sono stati momenti di altissima tensione, auto nel parcheggio che hanno avuto vetri spaccati, quindi sicuramente uso di lacrimogeni. È stato un finale che la violenza va sempre condannata in lungo e largo, però purtroppo quasi inevitabile. Sì, tanta rabbia, sicuramente tanta rabbia perché poi, parliamoci chiaro Mario, le cose vanno avanti già da un bel po' di tempo, c'erano questi dissidi, la reazione è stata una reazione proprio non bella sotto il profilo dell'immagine perché si vedeva proprio una guerra civile, io sentivo dei messaggi di amici, una sorta di guerra civile, un atteggiamento che comunque non fa del bene, perché il calcio è questo, lo sport è fatto così, chi sbaglia purtroppo retrocede, è molto amaro questo sabato perché nella storia dell'Ascoli mettere questa retrocessione ci lascia male, in modo in cui con un campionato è stato così che molto probabilmente uno o due punti in più potevamo ancora dire la nostra, c'è molta amarezza tutto qui, però io credo che bisogna subito cercare di trovare i presupposti, le situazioni giuste per ripartire. Era una giornata iniziata sicuramente male con l'ostricione contro Pulcinelli, il fantoccio con il cappio legato sul cavalcavia che collega il ponte di Rozzi allo stadio del Duca, un continuo, una trentina, quarantina bombe carta lanciate durante la partita per poi un epilogo ovviamente da condannare con tantissimi tifosi proprio di fuori del Duca ad aspettare i giocatori, non c'è stato come di norma il contatto tra giocatori, società soprattutto e tifoseria, ma sono stati davvero dei momenti ad altissima tensione, la squadra ha abbandonato lo stadio praticamente quasi intorno alla mezzanotte. Bisognerà ripartire, ripartire i tifosi, la città chiedono senza questa società e anche senza questi giocatori? Non è così semplice Mario, non è che tu una mattina ti alzi e questo lo credo anch'io, non è che un presidente si dimetta facilmente così e possa dire vabbè io abbandono tutto ciò che comunque ho portato e ho fatto anche sbagliando, anche creando dei grandi problemi sicuramente, ma questo fa parte anche del calcio, non è così semplice Mario, non lo sa meglio di me, aver dato anche questa immagine di violenza non è stata una cosa molto bella, io parlo chiaro perché anche un presidente che deve subentrare non è semplice, qui ad Ascoli pensiamo sempre agli anni della Serie A, ma quello è un tempo che è stato, qui si deve ripartire da tutto, al settore giornale, da un'organizzazione. Vediamo quello che succederà, noi vi teremo ovviamente aggiornati per quanto riguardano gli sviluppi all'interno della società, c'è stata questa manifestazione di interesse della Metal Cotta, azienda Bergamasca che da poco si è insediata proprio qui in città, seguiremo ovviamente come riconsueto tutti gli sviluppi, al momento è davvero tutto da Ascoli, un Ascoli che si risveglia purtroppo in modo molto triste con la scuola bianconera che torna in Lega Pro dopo 9 anni di Serie B. È tutto da Ascoli Piceno, Lino ti restituisco la linea. Grazie Mario, grazie a te e al tuo ospite per questa corrispondenza, seguiremo gli sviluppi proprio come hai detto tu di questa vicenda. Rimaniamo sulla cronaca però perché è di due feriti, il bilancio di un incidente stradale è accaduto questa mattina lungo la provinciale del Conero, meglio conosciuta come la strada del Monte dove per cause ancora in fase di accertamento due vetture sono finite fuori strada come vedete dalle immagini sul posto è intervenuto un mezzo della croce gialla di Ancona che ha provveduto al trasporto in ospedale di torrette di due uomini rispettivamente 30 e 61 anni. Le condizioni dei feriti al momento non desterebbero particolari preoccupazioni. Rimaniamo ad Ancona. Ancona che ha visto il suo monumento simbolo iconico appunto il passetto deturpato possiamo dire dal tentativo sicuramente in buona fede di un cineoperatore che faceva parte di una troupe che sta girando una fiction in città di eliminare una brutta scritta che probabilmente entrava nell'inquadratura e non faceva bella mostra di sé però come si dice alle volte la toppa è peggio del buco perché ha creato dei danni. Claudio Comirato. Di solito l'acetone viene usato per rimuovere lo smalto delle unghie ma c'è chi lo usa per ripulire i monumenti. Siamo proprio ad Ancona al monumento ai caduti qui nei giorni scorsi un membro della troupe Alex Bravo Poliziotto a modo suo e già il titolo suona già come una sorta di beffa non ha trovato di meglio che arrampicarsi qua sul monumento ai caduti e tentare di ripulire questa scritta che era stata realizzata da alcuni vandali tempo addietro. È stato fatto un danno, un danno contenuto sembrerebbe perché c'è stato il provvidenziale intervento della Polizia Municipale che ha fermato questa persona che stava armeggiando non solo con l'acetone ma anche con la carta vetrata. Il fascicolo è stato trasmesso in procura, ora aspetterà la procura ma anche alla sovrintendenza a cercare di quantificare i danni fatti con la produzione che si è scusata e si è resa disponibile a risarcire eventualmente il comune per il danno fatto anche perché questa non è una pietra comune, è una pietra di istria, materiale che venne scelto negli anni venti dal Cirilli, l'architetto che disegnò e realizzò proprio il monumento ai caduti che poi è anche il simbolo della città di Ancona. Assessore, qual è la posizione del comune? Siamo rimasti chiaramente sorpresi da questa iniziativa un po' avventata. Hanno visto che c'era questa macchia che poteva secondo loro essere tolta usando, credo, un diluente per le unghie, perciò un materiale sicuramente non approvato dalla sovrintendenza e appena abbiamo avuto la segnalazione abbiamo fatto intervenire la Polizia Municipale che per fortuna è intervenuta prontamente e ha impedito che ci fossero danni maggiori. Stiamo aspettando appunto dalla sovrintendenza che ci dicano se i danni ci sono stati. Devo dire che dopo essersi resi conto di quello che era successo, la produzione ci ha contattato immediatamente, mi hanno chiesto un appuntamento, sono venuti a scusarsi per questo comportamento che sicuramente, ripeto, è stato un po' avventato come minimo e si sono messi a disposizione eventualmente per ricoprire dei danni che dovessero esserci. Per ora abbiamo visto che il colore che c'era è stato solo sfumato, però è chiaro che la sovrintendenza che dovrà dare la valutazione definitiva su eventuali danni anche alla pietra per cui siamo in attesa di questo risponso e manteniamo dei rapporti con la produzione proprio per capire se dobbiamo chiedere a loro un intervento anche economico. Bene, ed ora cambiamo tono di notizia, di argomento. Nei giorni scorsi a Urbino c'è stato un incontro all'università organizzato da una conferenza sulla competitività delle imprese, la riesilienza dei cittadini, è un incontro inserito, un ciclo di incontri sulla educazione finanziaria che quindi vuole fare cultura. Io ho qui, graditissima ospite, la professoressa Germana Giombini, benvenuta. Grazie. Che è stata un po' la fautrice di questo incontro, di questo progetto. Professoressa ordinaria di economia all'Università Carlo Bo di Urbino. Allora, professoressa, innanzitutto che cos'è la cultura finanziaria o l'educazione finanziaria, come si riesce a divulgare? Buongiorno, grazie per l'invito. Quando parliamo di cultura finanziaria parliamo di conoscenze, competenze, atteggiamenti che le persone hanno nei confronti di concetti di finanza. Quando pensiamo alle conoscenze pensiamo a concetti base, che cos'è il tasso di inflazione, che cos'è il tasso di interesse, che cosa si intende per rischio, per diversificazione del rischio. Le competenze sono quelle che permettono di capire se noi abbiamo un'attenzione al breve periodo piuttosto che al lungo periodo, quindi alla gestione del risparmio o all'indebitamento. Gli atteggiamenti riguardano proprio la nostra predisposizione al risparmio precauzionale, diciamo così, che deve fronteggiare le particolari esigenze impreviste. Ecco, l'economia, questi temi sembrano cose abbastanza difficili e poco palpabili, però invece fanno parte della nostra quotidianità perché si parla anche di resilienza dei cittadini, oltre che di cultura d'impresa, che non è cosa da poco. Sì, la giornata di studi di giovedì si inserisce all'interno di un progetto di educazione finanziaria che serve per accrescere il livello di cultura finanziaria delle imprese. Abbiamo scelto un target specifico, le imprese del territorio, le piccole e medie imprese del territorio, un progetto che abbiamo portato avanti con una banca locale, con la BCC di Pesaro e ci siamo focalizzati su quelle che fossero le esigenze di conoscenza per queste imprese. Quindi il bilancio, le fonti finanziarie, l'importanza degli assetti giuridici, la finanza green, questo per citare alcuni dei temi che sono trattati e che verranno trattati. Ecco, il cittadino più consapevole in queste condizioni aiuta anche a uno sviluppo più organico dell'economia, del credito, del sviluppo finanziario economico di un territorio, immagino. Sì, c'è molta attenzione negli ultimi anni alla cultura finanziaria proprio perché la cultura, si è notato, studi empirici mostrano che laddove più elevata la cultura finanziaria ci sono meno crisi finanziarie e le persone da un lato, quindi a livello sistemico la cultura finanziaria è importante, a livello individuale è importante, i singoli cittadini e con più elevata cultura finanziaria possono fronteggiare meglio le situazioni di crisi. Per le imprese la cultura finanziaria è importante perché gli studi mostrano che soprattutto per le piccole imprese, le piccole imprese dotate di maggior livello di cultura finanziaria hanno una maggior competitività, una maggior reddittività, quindi sono più resilienti nei confronti delle crisi che purtroppo, come vediamo, capitano. Capitano. Allora, in una battuta velocissima, quanti danni ha fatto il Covid a cittadini e imprese? Diciamo che il Covid, il lockdown e il Covid hanno, se rimaniamo prettamente in ambito economico, hanno ridotto sensibilmente il livello del PIL del 2020 e del 2021. C'è poi stato un rimbalzo notevole immediatamente successivo alla ripresa e con l'adozione del PNRR. Però diciamo che i danni sono stati notevoli. Per quanto riguarda il sovraindebitamento ad esempio di famiglie e consumatori, si è proprio notato come la fragilità finanziaria, quindi un eccessivo onere del debito rispetto ai propri redditi e si è aumentata nei periodi del Covid. Bene, io la ringrazio. Grazie. Complimenti per quello che fate e saluti carissimi anche a Magnifico Rettore da parte nostra. Bene. Che economista si occupa di queste cose. E giusto appunto, è la sua materia. Grazie, grazie professoressa, grazie. Allora, adesso rimaniamo in ambito sociale, giusto riconoscimento ai volontari e ai dipendenti della Croce Rossa per il loro straordinario impegno quotidiano durante anche un periodo critico appunto come quello della pandemia di cui abbiamo toccato poco fa con mano agli aspetti economici. Camilla Cataldo questa mattina è stata a Marotta presso la sede della Croce Rossa proprio per questi encomi. Sentiamo. La Croce Rossa italiana ha ricevuto ad aprile 2023 dal Ministero della Salute la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica per l'impegno profuso durante la pandemia da Covid-19. Il coraggio, la dedizione e la straordinaria umanità dimostrate dai volontari e dipendenti durante quei tempi senza precedenti meritano di essere celebrati e riconosciuti. La cerimonia di questa mattina è stata un'occasione per onorare coloro che hanno lavorato instancabilmente per affrontare le sfide emergenti e che hanno dimostrato un eccezionale spirito di solidarietà. Presto la sede di Marotta Mondolfo è avvenuta la consegna delle medaglie di benemerenza, il tempo della gentilezza. Eravamo proprio in un momento drammatico, non avevamo protezioni individuali, non avevamo niente di niente, ma quello che oggi vado a sottolineare e vado a dire è il coraggio di queste persone e tra virgolette la solidarietà che hanno avuto nel mettersi a disposizione della Croce Rossa. Faccio un esempio, ristoranti chiusi per legge hanno aperto dentro la cucina per mettersi a disposizione, fornire i pasti. Sono stati premiati quelle benemerenze anche i sindaci dei comuni di Mondolfo e San Costanzo in piena adesione dei principi e degli ideali dell'associazione, così come le tante aziende e privati cittadini che hanno fornito aiuto e vicinanza, palesando alta coscienza civile e morale. L'impegno nell'aiutare le persone più vulnerabili non manca mai. La Croce Rossa è attenta alle solitudini e alle fragilità, coglie i bisogni del territorio e fornisce risposte concrete, collaborando con le istituzioni e le altre associazioni. Con il servizio di spesa e il pronto farmaco a domicilio, il reperimento dei dispositivi di protezione in quel momento introvabili, il costante supporto psicologico a chiunque ne avesse bisogno e tanto altro, gli oltre 100 volontari hanno rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per gli abitanti dei comuni in cui l'associazione opera. Il momento probabilmente più difficile è stato la prima volta che comunque ci siamo vestiti abbiamo indossato la tuta bianca, quindi è un periodo che è stato un momento che comunque ci ha colto particolarmente e ci ha segnato particolarmente. Un avvenimento che ci ha toccato parecchio è quando, mentre facevamo la consegna di questi viveri, all'esterno tutte le persone erano nei terrazzi e ci hanno applaudito. Bene, ancora congratulazioni, sembra veramente tanto tempo fa, invece è una cosa che abbiamo ancora sulla pelle. Allora cambiamo decisamente argomento, andiamo come sempre, avviene a questo punto del nostro telegiornale del sabato mattina, un appuntamento di grande empatia che è quello con il meteo, io vedo e apro il collegamento subito con Samuele Giampietro che ci mostra un'immagine alquanto singolare. Samuele, di che cosa si tratta? Parlacene perché sicuramente mi sembra qualcosa di bello, a prescindere. Ciao Lino, un buongiorno a te, un buongiorno a tutti i telespettatori di Tvrs. Sicuramente andiamo a commentare quanto è avvenuto questa notte perché abbiamo avuto un evento storico, azzarderia a dire epocale, perché era da ben 21 anni, quindi dal 2003 che non si verificava un episodio di aurora boreale, ma soprattutto di una tempesta geomagnetica piuttosto intensa che ha interessato e continua ad interessare tuttora il nostro pianeta. Possiamo vedere proprio dall'immagine che vi sto raffigurando quella che è stata l'aurora boreale che si è osservata questa notte e che ha interessato gran parte del nostro emisfero settentrionale, anche l'emisfero australe, ma guardiamo proprio l'estensione di questa aurora boreale che ha coinvolto quindi tutto l'emisfero nord, soprattutto i paesi nordici e addirittura abbiamo visto l'aurora boreale anche sulla nostra penisola, in particolare proprio nelle nostre zone, nel nord Italia, si sono avute proprio aurore polari, mentre a partire dal centro Italia, quindi dal Lazio e Abruzzo, in giù invece abbiamo avuto invece episodi di SAR, ovvero di archi rossi aurorali stabili. Possiamo vedere l'immagine che ho preso in prestito da Niccolò Ubalducci, da Gabice Mare, che ci mostra proprio il bellissimo spettacolo che è stato catturato questa notte, proprio dalla località di Gabice Mare e che comunque ha lasciato sicuramente tutti quanti con gli occhi puntati al cielo e diciamo ci ha lasciati anche un po' senza fiato, perché vedere questo evento anche sulla nostra penisola, diciamo, è piuttosto unico che è raro. La situazione vede ancora la tempesta geomagnetica attiva, quindi con delle aurore boreali ancora in atto, probabilmente questa sera ci sarà di nuovo occasione di riosservare sui nostri cieli questa aurora boreale, però di intensità minore. Ad ogni modo, tornando all'evoluzione del tempo di casa nostra, possiamo vedere intanto le immagini da satellite con l'Italia sgombra da nubi significative, solamente una blanda circolazione di aria umida tra Calabria e Basilicata che comunque non desterà alcun problema. E dunque sarà un fine settimana caratterizzato proprio dalla rimonta dell'alta pressione che sta coinvolgendo gran parte dell'Europa, avremo una nuova perturbazione che si avvicinerà di nuovo dal nord atlantico ed entrerà proprio dal golfo di Biscaglia nel corso della prossima settimana, tuttavia questa perturbazione rimarrà confinata sulla penisola iberica e sulla Francia, mentre avremo una nuova rimonta dell'anticiclone subtropicale sulla nostra penisola. Analizziamo infine il quadro meteorologico per le Marche, tempo stabile tra oggi e domani con cieli prevalentemente sereni, al più qualche bellatura di passaggio, poi lunedì variabilità in aumento con possibili temporali isolati a ridosso dell'apenino umbro marchigiano, impossibile sconfinamento verso le aree dell'entroterra, di nuovo una situazione che vedrà ancora dei temporali pomeridiani, si tratta per lo più di temporali pomeridiani che riguarderanno le aree dell'entroterra marchigiano fino a localmente sconfinare verso i settori limitrofi, le località limitrofe, la tendenza poi vedrà un nuovo aumento della copertura nuvolosa su gran parte della penisola e anche sul territorio marchigiano con la possibilità di qualche isolato esporadico fenomeno sempre per lo più concentrato sui settori interni. Per il momento non ho altro da aggiungere Lino e restituisco a te la linea. Bene, grazie, grazie Samuele, grazie per questa magnifica notizia che ci hai dato dalla Aurora Boreale e credo che molti di più questa sera stanno col naso all'insù per godersi nel qual caso ci sia questo spettacolo. Comunque grazie, grazie veramente e buon lavoro. Assolutamente, aggiungo solamente che qualora dovesse verificarsi questa sera di nuovo un episodio di Aurora Boreale, occhi puntati al cielo e soprattutto in direzione nord. Ecco, va bene, useremo il telefonino per trovare il nord, grazie ancora e buon fine settimana anche a te. Buon fine settimana a tutti voi. Bene, parliamo di accoglienza e di proloco, assemblea elettiva stamattina delle proloco nelle Marche, alla guida dell'UMPLi regionale resta Marco Silla. Dopo la tessera nazionale del socio 2024 l'obiettivo è quello di far crescere le presenze in ogni comune. Manolita Scocco. Marco Silla è stato riconfermato presidente dell'UMPLi, Unione Nazionale Proloco d'Italia regionale delle Marche, nel corso dell'assemblea annuale che si è svolta stamattina al ridotto delle muse di Ancona. Per lui, residente a Campofilone e per lungo presidente dell'UMPLi di Ascoli è fermo, una rielezione all'unanimità, senza altre candidature, a dimostrazione di una compattezza e di un riconoscimento personale, dopo il primo mandato di quattro anni, che non può che dare ancora più forza a questa realtà associativa. Presidente, importante momento questo, assembleare per fare il punto della situazione, per tracciare anche quelli che sono gli obiettivi per il prossimo futuro. Le proloco ci sono, l'UMPLi c'è e la sua riconferma a presidente è la testimonianza di una grande vivacità. Sì, ci proviamo, facciamo un secondo giro, come si dice in gergo, doveroso forse per le responsabilità perché abbiamo messo in campo diverse situazioni. Quindi cerchiamo di finire un percorso che abbiamo iniziato quattro anni fa, ci siamo dati un programma, quello dei primi quattro anni l'abbiamo fatto, con la conclusione quest'anno della bellissima evento della Tessera del Sogio, che è stata la ciliegina sulla torta. Quindi diciamo che nelle marche le proloco adesso cominciano a farsi sentire, ma non perché vogliamo dare spallate a destra o a sinistra o fare chissà che cosa. Vogliamo solo far capire quello che facciamo, lo facciamo tutti i giorni con molta tranquillità e con molta modestia. Lei parla spesso di rete. Noi cerchiamo di metterci tutti sotto la stessa bandiera della proloco. Siamo 18 mila persone, 220 proloco, quindi copriamo quasi tutti i comuni. Come mi diceva, è un'altra cosa che è che c'era molto un sindaco. Visto che adesso il clero ha dei problemi, quindi non c'è più i sacerdoti, i carabinieri stanno chiudendo le caserme, noi siamo diventati la seconda o la terza ente all'interno dei piccoli comuni. Bene, questo era l'ultimo servizio di questa edizione, guardiamo il sommario con quelle principali. L'Ascoli retrocede in C-scene di guerriglia urbana nel dopo partita, feriti atti vandalici e scontri violenti tra ultra e polizia. Danni al monumento del passetto, sfregiato dalle bombolette spray, usato un solvente sbagliato da un cineoperatore. Educazione finanziaria e performance economiche, a Dubbino conferenza per la competitività di imprese e resilienza dei cittadini. Consegnate stamattina la Croce Rossa di Marotta a Benemerenze a dipendenti e volontari per impegno ed edizione verso l'altro. Bene, grazie per essere stati con noi, l'informazione torna questa sera con la seconda edizione di All News. Arrivederci. Asset, quando il cittadino è al centro. E' un centro. E' un centro. E' un centro. E' un centro. Asset, quando il cittadino è molto più oile. Sì, io le calma si può stomach dire in Vigila. Anche per le croce di Marotta.